ciao a tutti buongiorno oggi ci troviamo presso un piccolo santuarietto a ospedaletto alla madonna del fontanone che molti di voi conoscono io ricordo che siamo stati anche in bicicletta con i ragazzi del grest qualche anno fa è veramente un bel santuario e ci dicevano che l'origine probabilmente di questo tempietto risale al 1600 addirittura questo affresco si vede che è antico che ha una certa diciamo un certo pregio ecco e qui vengono ancora celebrate le sante messe madonna del fontanone perché appunto c'è un'acqua sorgiva che praticamente sotto la chiesa e poi sfocia in questa sorta di piccola vasca piccola che è situata proprio qui all'esterno appena appena fuori appunto della chiesetta come vedete la chiesetta è attrezzata come tutte le chiese per il covid 19 perché la distanza di sicurezza va mantenuta e ancora oggi come vi dicevo viene celebrata la messa mi pare una volta la settimana dal parroco di ospedaletto appunto stamattina c'è ci diceva collaboratore che questa mattina c'è appunto la santa messa cosa dire parlando sempre di queste cappelle votive che popolano un po il nostro territorio sono sempre dei segni molto belli di spiritualità di una devozione certamente popolare ma che arricchiscono veramente anche la bellezza anche della nostra natura dell'ambiente che ci circonda perché ci fa sempre come dire anche pensare a dio pensare a quel valore immenso che è la spiritualità che risiede dentro di noi il più delle volte avete notato queste cappelline sono dedicate appunto alla madonna perché maria ha sempre avuto una grande diciamo influenza sulla devozione popolare sulla preghiera di tante persone l'ambiente qua che ci circonda è un favoloso veramente che anche eleva molto lo spirito mi ricordo vagamente anche un altro tempietto che abbiamo visto in questi tempi con claudio che è quello del monasterolo anche lì sistemato molto bene tenuto in ordine e allora io volevo anche qui salutare il parroco don luca e anche i collaboratori che stanno qui pulendo questa questa chiesa perché è bello vedere ecco che non solo vengano erette queste chiese ma che ci siano persone volontari disponibili proprio a tenere in ordine il tutto a tenere pulito e quindi a questi luoghi quel valore che meritano soprattutto all'interno ecco del cammino spirituale di una parrocchia di una persona concludo invitandovi a venire a fare anche un giro anche in bicicletta noi siamo praticamente appena fuori spedaletto no su una praticamente stradina che una ciclabile pedonale si può andare anche da quella parte in quella direzione alla mia sinistra a somalia se non erro senna ecco bene allora in questo questa meraviglia se così possiamo dire un caro saluto a tutti voi augurandovi sempre una lieta e buona giornata e ricordiamoci che facendo vedere anche tutte queste cappelle votive queste santuarietti piccoli ma sempre ricchi di grande storia e soprattutto di spiritualità l'invito a riscoprire ecco il valore dello spirito nella nostra vita ciao a tutti buona giornata